Potrebbe, anzi dovrebbe, essere la giornata clou per il nuovo allenatore dell'Avellino. La società è al lavoro per individuare il sostituto di Roberto Taurino, da mettere già a disposizione della Rosa per la trasferta di Francavilla Fontana, che si giocherà sabato pomeriggio. Il ventaglio di nomi inizialmente sei, si è ristretto notevolmente il cerchio, sta per chiudersi. I nomi caldissimi sono ora quelli di Massimo Rastelli, Sogno della Piazza, e Cristian Brocchi, senza però trascurare Michele Marcolini. Con i primi due la sensazione è che si possa parlare di un progetto importante, passando per investimenti anche nel mese di gennaio per rinforzare la Rosa e provare a fare il massimo in questo torneo, per poi dare l'assalto definitivo alla B, magari l'anno prossimo. La carriera di Rastelli parla da sé. Ad Avellino ha fatto benissimo, valorizzando giovani importanti e costruendo spogliatoi forti, col giusto mix tra esperti e promesse. Brocchi, simile a Rastelli in certi versi, ha vinto il campionato con il Monza dopo essere stato allenatore del Milan. In Bico e Brianzoli, un terzo posto e semifinale playoff. Marcolini poi conosce l'ambiente, avendo svolto il ritiro ad Ariano Irpino nel 2018. Insomma, tre sono i nomi rimasti in lizza, col DS De Vito, che in queste ore sceglierà il profilo migliore per far rinascere il progetto dell'Avellino, anche ieri sera strapazzato sotto i colpi della Viterbese.